Per San Bernardino l'iconografia di San Bernardino rappresenta una caratteristica unica che raramente si riscontra nel caso di altri santi, cioè la totale uniformità delle immagini anche ritratte in epoche e da pittori diversi. Lui viene ritratto sempre secondo certi canoni iconografici e quindi è riconoscibile, al contrario di altri santi, ad esempio i santi medievali per i quali ciascun artista ha potuto interpretare a suo modo la loro iconografica. Mi riferisco ad esempio, soltanto per fare un esempio, ai tanti santi medievali, noi non riconosciamo le immagini, non abbiamo testimonianze legate alla ritrattistica. Un esempio in particolare ve lo vorrei proporre proprio per darvi un'idea di questo fatto. Ad esempio mi riferisco a l'iconografia di San Francesco. Questo argomento è molto dibattuto tra gli storici dell'arte e il problema, il dilemma è come era San Francesco, che immagini aveva, è stato ritratto in tanti mondi. Qui abbiamo un esempio lambante dell'arte. Si sente?